bella a tutti ragazzi benvenuti in questo video oggi siamo su Clash Royale mi hanno regalato son raggiame così comunque siamo con Zeus 83 solo che lui non gioca c'è la Clash ragazzi io se l'avevo Clash ero anche fortino fortino fortina ragazzi comunque ero all'ina 2 si però ero forte questo ho trovato questo che io ho già cominciato ora ho deciso di fare una serie voglio dire una cosa mettiamo questo ragazzi andiamo a fare una battaglia non puoi ricevere nuovi bauli si perché sono questi però lo c'è ora con voi vedo 24 euro arcieri un upgrade upgrade del goblin rara mini peccato c'è però ancora di ritornare in drago no ancora di ruota in drago ragazzi lui alla prima volta l'ha trovato la prima volta che ho giocato il primo pacchetto ritornare in drago ragazzi andiamo ad attaccare cazzo tu buona fortuna la mia tattica ragazzi livello 2 cazzo mene della crisi anche lui sta attaccando ragazzi se qualcosa ditemelo faccio un clan ci sto pensando non è uscito all'inizio no di bicchia ora cazzo toni mocca cazzo toni ragazzi faccio schifo quando attacco cioè vado che ho buttato principe gigante schifo butto gigante con il supporto di goblin quello che non hai trovato tu poi ho vinto di generale di cosi qui a capo proprio così 3 goblin hanno scompito quindi ragazzi di manico poca vita abbiamo vinto 3 stelle 3 goblin hanno scompito di livello 2 adesso vediamo cofran questo che godini è l'attacco che ho fatto oggi l'attacco più corto del mondo che vuole cosa non l'attacco affanculo comunque ragazzi io ora scrivo salutate sto registrando vediamo spero che salutano cazzo meno della crisi però sto pensando di mettere no ho sbagliato cazzo il baule magico ragazzi il baule no mi ha fatto una serie cosa? mi ha fatto una serie già 4 minuti di registrazione cazzo ragazzi andiamo a fare l'ultimo attacco dai cazzo immagini cosa? buona fortuna o fa un culo battalto dei modi il principe e mini pack si va a comandare e pure dei goblin migliori mini dragon no cazzo Gianluca che cazzo oui 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 ma c'è lì tu ancora mi capis sì 691 coppe si arriva l'ultimo 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 ok è fulvio ragazzi non sono stato scemo perché quando mi sono cancellato Clash Royale perché me lo sono cancellato perché perché era in inglese non mi hanno detto che si poteva fare anche su impostazioni e ragazzi mi hanno fatto cancellare Clash Royale è successo invece io ce l'avevo in inglese cazzo io sono andato su impostazioni e l'ho cambiato una still l'ho fatto io ho perso iiii chissi salutato ce l'ho preso fortissimi ce l'ho preso meno 4 ragazzi comunque non hanno saltato cacciomini della crisi ci vediamo un salto da me Zeus bella vaga Zeus salutato ciao ciao